Ben ritrovati ragazzi dal vostro OpenTitus, siamo tornati nuovamente a parlare di derivate di Ubuntu. Visto che è uscita la nuova Ubuntu 24.04 LTS, adesso parleremo nella fattispecie di Ubuntu Studio 24.04 LTS. Ma prima di iniziare, spazio con la sigla. Ed eccoci qui, tornati a parlare di Ubuntu Studio 24.04 LTS. Perché questa derivata di Ubuntu? Ebbene, Ubuntu Studio è sempre stata utilizzata come una derivata fortemente voluta per i professionisti, voluta per coloro che utilizzano delle suite particolari, suite di audio, di editing audio, video, foto. E la cosa bella che è tutto inglobato in una stessa distribuzione. E questo ha sia un vantaggio che uno svantaggio. Chiaramente il vantaggio è che avete già tutto pronto, quindi non dovete scerbellarvi nel cercare software, ma avete davvero tantissimo software valido a vostra disposizione, e adesso lo vedremo anche insieme. Però va da sé che tantissimo spazio verrà a mancare, perché comunque tutte queste applicazioni, nel loro insieme consumano dello spazio. Ma va da sé che se fate qualcosa di questo tipo, se fate un lavoro di questo tipo, è chiaro che avete anche una macchina performante, ed è anche giusto che sia così. Ma adesso concentriamoci nel vedere meglio cosa c'è sotto il cofano di questa derivata. Chiaramente, vedete, abbiamo una versione del kernel dedicata, è da notare questo 6.80, che fa parte sempre del kernel LTS, ma vedete, low latency. Quindi ha degli accorgimenti proprio sulla bassa latenza questo kernel. Quindi, sicuramente, sono state apportate delle migliorie e degli accorgimenti proprio per quanto riguarda profilo editing audio. E vedete che abbiamo tantissimi pacchetti installati, ne abbiamo 3057, quasi il doppio di una normale distribuzione derivata di Ubuntu, e abbiamo anche pacchetti in formato snap. C'è da dire un'altra cosa, vediamo se qualcuno di voi se ne è accorto. Solitamente Ubuntu Studio prediligeva come interfaccia grafica XFCE. Ebbene, questa volta si è spostata su KDE, che per me è la scelta più azzeccata. Perché un utente che utilizza una tipologia di distribuzione come questa, che deve fare un lavoro per il quale abbiamo già detto, un desktop environment come quello di KDE sicuramente è il migliore in assoluto. Vedete che abbiamo la versione di Plasma 5.27, quindi comunque è una versione datata, non abbiamo la nuovissima Plasma 6. e appunto il gestore finestre è il classico di Plasma, KWin. Il tema è un tema particolare applicato, il materia dark. E l'icon vedete proprio Ubuntu Studio Dark, quindi proprio delle icone personalizzate proprio dal team di Ubuntu. e vedete che all'avvio comunque è stato fatto un lavoro ottimale, perché non superiamo il giga di RAM, a differenza invece di una Ubuntu Cinnamon, che siamo quasi sotto a un giga e due, quindi non abbiamo un'eccellente ottimizzazione. Invece qui è stato fatto un ottimo lavoro. Se andiamo sempre con il nostro classico comando a Snap List, vediamo anche i classici applicativi in formato Snap che sono già presenti, Bayer Core 22, Firefox il firmware updater, Free Show GNOME 42, GTK, i temi in formato GTK, Snap ID, anche le integrazioni desktop Snap ID, e Thunderbird, quindi diciamo abbiamo un bel po' di roba in formato Snap. Ma se non siete avversi all'ecosistema Snap, potrebbe essere trascurabile questo dettaglio e andare avanti nel meglio di questa distribuzione. Devo dire che questa distribuzione ha sicuramente un senso, a differenza magari delle altre, scusate, questa derivata ha un senso, a differenza magari di tutte le altre che semplicemente hanno delle personalizzazioni soltanto dal punto di vista desktop, environment, invece in questo caso davvero troviamo un parco software davvero importante. Ma andiamo a vedere un attimo quelle che sono le impostazioni e vedete che sono le classiche impostazioni presenti su KDE Plasma, dove trovate il menu a tendina a sinistra, suddivise in maniera ordinata, qui potete fare tutte le personalizzazioni nel caso, per quanto riguarda il vostro ambiente desktop, e da notare anche la notevole presenza già di temi predefiniti installati, quindi questo potrebbe essere anche un altro valore aggiunto. Poi ovviamente tutte le altre classiche impostazioni dell'ambiente desktop KDE, non mi soffermo più di tanto a parlare perché è lo stesso, è appunto il medesimo. Quindi vedete abbiamo anche qui la presenza del firewall, che vi consiglio sempre di andare ad abilitare. Scendendo andiamo anche un attimo alle impostazioni informazioni di sistema ecco qui che il server grafico predefinito è X11 non Wayland perché chiaramente se vogliamo fare un lavoro di un certo tipo con X11 siamo nel posto giusto. È chiaro che Wayland sta facendo dei passi a gigante sotto questo aspetto, ma non è ancora pronto da un punto di vista professionale. Per quanto riguarda invece le versioni delle librerie QT, siamo alla 5.15.13 e invece i framework KDE 5.115. ma venendo diciamo alla sostanza, alla ciccia di questa distribuzione, ovviamente vedete il classico gestore software Discover, ottimissimo, l'abbiamo già detto con Kubuntu, anche qui Discover ha un valore aggiunto perché ci dà la possibilità di andare ad impostare in modo predefinito anche Flatpak. Vedete che adesso ci imposta Flatpak, vediamo che Snap non ce lo può eliminare chiaramente. Ora se chiudiamo e riapriamo di nuovo il gestore software, notate che vi dà anche la possibilità di andare ad impostare i repository di Flatab. Fate anche questo. Abbiamo sbagliato password. Vediamo se li è presi. Ed ecco che si è preso anche i repository di Flatab, quindi se andiamo a prendere una applicazione, e ce la scarichiamo. Vedete che ci ha trovato la nostra applicazione in formato Flatpak, vedete, Flatpak Application. Quindi questo può essere sicuramente un valore aggiunto, oltre agli Snap presenti. Mentre per quanto riguarda un attimo tutte le applicazioni presenti, ecco mi piace molto la scelta di Canonical, perché in questa derivata ha suddiviso in tre macro aree. Produzione audio, graphic design e produzione video. Quindi produzione audio, vedete che vi suddivide in audio utility, Carla Control, dove possiamo andare a gestire tutti i nostri ingressi e uscite, gli effetti, anche qui stessa cosa, se vogliamo gestire anche degli strumenti, se gestiamo dei MIDI, anche gestire schede audio, mixer, vedete anche qui metronomi, e poi ovviamente tutto il comparto software, dove non può mancare l'affidabilissimo Ardour, Audacity, il controllo del volume, pulse, e vedete ci sono tantissime altre applicazioni diverse, le quali io non conosco, ma comunque sono tutte collegate alla produzione audio. Ardour sicuramente è uno dei più completi, notate anche l'animazione che c'è, vedete che sta scansionando tutti i plug-in, li sta applicando, vedete che ci parte il nostro Ardour, dove davvero si può fare il mondo attraverso questi tool audio. Ok. Siamo entrati nelle impostazioni. Chiaramente non vede dispositivi di uscita, perché stiamo utilizzando una virtual machine, ma poco importa, vedete che con questo software davvero si può fare tantissimo dal punto di vista dell'editing audio. Non entro nello specifico, ma era giusto per farvi vedere. Vediamo se ci è chiusa la nostra sessione. Ok, perfetto. Continuando, abbiamo invece l'altra sezione dedicata al graphic design. Abbiamo le graphic utility, dove appunto, vedete, possiamo andare ad applicare tantissime variazioni cromatiche di immagini, fotografia, anche qui, per visualizzare al meglio le vostre foto. Blender, chiaramente un altro software di manipolazione grafica, Gimp, anche esso, Krita, simile, Inkscape, per la modifica vettoriale, qui vedete, per andare a prelevare il colore, che altro abbiamo? Libre Office Draw, chiaramente non poteva mancare, visto che comunque c'è anche la suite office presente nell'interno, e così via. Poi abbiamo la produzione video, anche qui viene incluso Blender, perché si può fare la stessa identica cosa, però chiaramente qui ci sono anche i masterizzatori, abbiamo KDN Live, OBS Studio, se facciamo delle registrazioni live, o registriamo appunto delle sessioni video, come facciamo noi, Free Show, anche qui, Editor Video, e altri software della medesima tipologia. Poi, chiaramente, ci spostiamo a tutte quelle che sono le classiche applicazioni, i classici applicativi, quindi gestione dei file zip, gestione dei temi, e poi, chiaramente, la normale suite KDE presente. Anche qui, andiamo a vedere quelli che sono i driver aggiuntivi, sempre da abilitare all'avvio, chiaramente, se volete utilizzare una distribuzione di questo tipo, i driver sono fondamentali affinché appunto i vostri dispositivi possono poter funzionare al meglio attraverso le applicazioni che abbiamo menzionato prima. Per quanto riguarda Internet, abbiamo sia Thunderbolt che Firefox, in formato, abbiamo detto, Snap, ma volendo ci possono anche rimuovere ed utilizzare altri formati, ma non avrebbe senso, altrimenti non avreste nemmeno scelto tale distribuzione. Come player multimediali abbiamo il classico VLC, poi abbiamo Aruna, Eliza, Mix e Xayedo. Qui invece, vabbè, classico sempre di LibroOffice. Di sistema, invece, vedete che abbiamo tutte le classiche, tutte le classiche impostazioni e pacchetti sempre della suite KDE, quindi Discover Dolphin e così via, aggiornati sempre alla versione di KDE che abbiamo detto prima. Abbiamo un Ubuntu Studio Audio Configuration e Ubuntu Studio Installer. È anche presente una volta installata, quindi non è... solitamente nelle distribuzioni non viene lasciato un installer, invece in questo caso è presente. qui ovviamente vi dà la possibilità di guidarvi nella configurazione del vostro hardware in maniera corretta, perché comunque le impostazioni sono tante e bisogna farle nel modo giusto e dovuto. C'è qualcosa anche di sviluppo, ufficio, ovviamente abbiamo sempre la classica suite office, però presente dei repository ufficiali di Ubuntu e non in formato SNAP, quindi in formato DEB, Ubuntu Studio Information, anche qui vedete che abbiamo una sezione dedicata a SKU Ubuntu e se vogliamo anche contribuire a Ubuntu Studio. Aiuto, alimentazione, sessione e così via. diciamo che grossomodo abbiamo fatto una rapida carrellata di questa derivata di Ubuntu, che secondo me reputo una delle migliori in quanto è altamente specifica. Quindi se cercate in una distribuzione tutto questo software, chiaramente sarebbe stata cosa interessante se durante l'installazione vi dia la possibilità di scegliere se lato fotografico, lato audio, lato video, scegliere il software che vi serve. Perché chiaramente una persona che fa il fotografo è vero, potrebbe fare anche il videomaker, ma fare anche editing audio diventa un po' più difficile. Quindi diciamo c'è tanta roba qui dentro, però utilizzarla tutta diventa quasi impossibile. Poi tra l'altro ci sono anche dei software che si accavallano un po' tra di loro, un po' come Krita e Gimp non vedo molto il senso o userei uno o userei l'altro perché davvero questa è una distribuzione che all'avvio occupa molto molto spazio. Infatti vi faccio vedere un attimo che noi abbiamo dedicato all'incirca 25 gigabyte e 15 gigabyte sono completamente occupati dal sistema più le applicazioni. Tenete presente che è una derivata di Ubuntu solitamente all'incirca ha bisogno di 10 giga. Quindi abbiamo 15, quindi abbiamo 5 gigabyte di software. Chiaramente se per voi il problema spazio non sussiste è chiaro che questo ragionamento nemmeno ha senso. Quindi è una distribuzione, è una derivata di Ubuntu che reputo affidabile questa, ha un senso, l'ho vista molto robusta, mi piace e la consiglierei appunto chi gli serve una tipologia di distribuzione proprio lato professionale. Ecco, fatemi sapere anche la vostra come vi trovate se la state usando o se siete curiosi ad utilizzarla. Detto questo, detto un po' tutto, vi aspetto con i vostri commenti sotto a questo video e vi aspetto anche per altri contenuti sempre sul nostro canale. Alla prossima dal vostro Pentitus. Ciao! Ciao!